benvenuti a tutti io sono gabriele caselli e questa è la prima trasmissione del podcast di state of mind il web journal italiano di psicologia che potete seguire e leggere su www.stateofmind.it state of mind è un giornale online di psicologia psicoterapia e neuroscienze nato nel 2011 con lo scopo di portare discussioni innovazioni inerenti la scienza psicologica nel web questo sia per specialisti e tecnici del settore che per qualsiasi curioso interessato a dare uno sguardo psicologico sul mondo quello che state ascoltando è il nostro primo esperimento e per iniziare abbiamo scelto un tema che a noi è molto caro il rimuginio l'idea è nata da una nostra recente pubblicazione nel marzo 2017 infatti è uscito un libro scritto dal sottoscritto assieme a giovanni maria ruggero e sandra sassaroli edito da raffaello cortina editore dal titolo proprio rimuginio teoria e terapia del pensiero ripetitivo questo testo racchiude vent'anni di ricerca sulla psicopatologia e la terapia cognitiva del rimuginio ricerca portata avanti in italia principalmente dal gruppo di ricerca di studi cognitivi a cui i tre autori me compreso sono affiliati studi cognitivi una scuola di specializzazione in terapia cognitiva riconosciuta dal miur che da molti anni svolge ricerca su questo tema è raggiunto il tempo di fare il punto della situazione quindi abbiamo racchiuso tutto il nostro lavoro gli sforzi dei passati anni in questo libro che però è un libro tecnico per specialisti e ci siamo resi conto nelle varie presentazioni che abbiamo fatto in giro per l'italia in questi mesi che l'interesse per il rimuginio è molto vasto e ci sono giunte molte richieste di una versione diciamo più accessibile divulgativa di questo testo così abbiamo colto la palla al balzo unito due nostri interessi quello per il rimuginio e quello per questa esperienza di trasmissione via podcast e abbiamo pianificato questa serie di trasmissioni che raccontano che cos'è quali sono le conseguenze come si gestisce la propensione a rimuginare sui propri problemi la nostra speranza è che questa trasmissione possa essere utile e interessante per coloro che vi dedicheranno del tempo e anche un'esperienza curiosa e divertente per me per noi che siamo qui a chiacchierare di questo tema caro quindi bene direi che possiamo iniziare la prima domanda il primo tema è come mai abbiamo iniziato a studiare il rimuginio perché il rimuginio è stato così importante per noi direi che ci sono almeno due ragioni una ragione storica e una ragione teorica la ragione storica è che nell'ambito della letteratura scientifica internazionale il rimuginio assunto partire dall'inizio degli anni 90 sempre maggiore interesse uno dei più grandi studiosi dei primi grandi studiosi di rimuginio è thomas borkovec un ricercatore americano che si occupava principalmente di insonnia e nello studio dei problemi di insonnia scoprì che la maggior parte delle persone che hanno problemi di questo tipo sono afflitte da una propensione a rimanere sveglie a riflettere sui propri problemi con difficoltà a interrompere questa forma di ragionamento questa è stata la prima lente di ingrandimento sul tema del rimuginio in inglese worry siamo all'inizio degli anni 90 il mondo della psicopatologia della psicoterapia è ancora vede la grande ascesa delle terapie cognitivo comportamentali come terapie basate sull'evidenza scientifica nonostante anche queste ultime comincino a manifestare alcuni limiti l'area dei disturbi d'ansia generalizzati dell'insonnia era uno di questi limiti il rimuginio uno dei fattori ancora poco considerati nello studio della psicopatologia che sembrava avere una forte propulsione nel sostenere questo genere di problemi iniziò dall'insonnia si è stese poi ai vari disturbi d'ansia e già a metà degli anni 90 sandra sassaroli in italia iniziò ad approfondire l'interesse su questo processo partendo da tutt'altra area psicopatologica quella che le era più chiara cioè quella dei disturbi alimentari in quei tempi sandra sassaroli giunta a milano ragionava sulla difficoltà a motivare pazienti con disturbi del comportamento alimentare al trattamento era evidente che la motivazione per loro fosse una sorta di problema cruciale e che questa motivazione a cambiare fosse spesso interrotta da un costante impegno della mente in pensieri angosciosi sul controllo e sull'alimentazione il rimuginio emerge dalla attività clinica di sandra sassaroli dei suoi colleghi il primo nucleo di clinici di studi cognitivi a milano in un'area psicopatologica differente da lì iniziano gli studi in italia sul rimuginio portati avanti dal gruppo di ricerca di studi cognitivi da lì emerge anche una idea che diventerà gradualmente sempre più dominante negli anni successivi e ciò quella per cui il rimuginio fosse una sorta di processo transdiagnostico nucleare e cioè che il suo impatto in qualche modo attraversasse in senso negativo naturalmente una grande varietà di disturbi psicologici non solo limitata all'insonnia non solo limitata forse ai disturbi d'ansia ma estesa quantomeno anche i disturbi del comportamento alimentare e poi negli anni successivi si estenderà a molti altri disturbi psicopatologici questo ha dato il là a tutta una serie di nuovi filoni di ricerca proficui ma non è l'unica ragione la seconda ragione è la ragione teorica che nasce da una domanda importante che è stato possiamo dire da sempre è tuttora uno dei principali cruci di chi si occupa di ricerca in psicopatologia vale a dire la necessità di distinguere che cosa discrimina una normale tra virgolette sofferenza psichica da un disturbo psicologico la sofferenza psichica è descritta spesso da criteri che riguardano sofferenze emotive di varia natura e problemi comportamentali di varia natura ansia tristezza depressione rabbia comportamenti problematici come il consumo di alcol la procrastinazione però a guardar bene tutti questi criteri sono criteri che descrivono aspetti che fanno parte della vita di tutti noi in fondo la salute mentale non può essere caratterizzata da una vita priva di emozioni negative le emozioni negative fanno parte dell'essere degli esseri umani questo è un cruccio importante perché il rischio che si corre è quello di dare l'idea dell'uomo sano come di una macchina che non prova mai emozioni negative mentre oramai decine e decine di anni di ricerca ci mostrano che anche le emozioni più fastidiose hanno un loro lato funzionale la paura ci permette di essere cauti ci permette di affrontare il pericolo con una risposta di attacco fuga sono delle risposte fisiologiche sostenute dalla evoluzione degli organismi e finalizzate sostanzialmente a proteggerle tutte a un senso non esistono per caso e quindi noi psicologi noi ricercatori abbiamo il dovere di poter discriminare che cos'è una naturale paura ansia da un disturbo d'ansia questa domanda è tuttora molto dibattuta allo stesso modo la stessa vulnerabilità psicologica è un elemento del tutto comprensibile e cioè storicamente tutti noi abbiamo provato chi più chi meno esperienze dolorose nella nostra vita alcuni sicuramente più di altri esperienze dolorose che sono legate a eventi di vita la nostra infanzia traumi esperienze educative difficili complesse che ci hanno esposto a certe sensibilità essere un bambino estremamente messo sotto pressione dalle esigenze delle figure genitoriali può portare a diventare un adulto particolarmente sensibile al senso di costruzione viceversa essere sottoposti a critiche giudizi negativi ci può rendere sensibili all'opinione degli altri all'approvazione degli altri nei nostri confronti insomma la nostra storia rende la nostra mente vulnerabile o sensibile a certi temi a certi contenuti però è anche vero che la sensibilità o la vulnerabilità psicologica da sola non basta non è un criterio sufficiente per descrivere una psicopatologia nel senso che ci sono persone che hanno una loro sensibilità maggiore di altre su certi temi la critica il giudizio l'abbandono e quant'altro ma non sviluppano rispetto ad essi disturbi psicologici quindi la domanda chiave diventa questa è sempre stata questa ed è tuttora questa qual è la differenza tra una vulnerabilità psicologica un disturbo psicologico che cosa trasforma una vulnerabilità una sensibilità in un vero e proprio disturbo qual è l'elemento discriminante ecco dall'inizio degli anni 90 grazie a thomas borcovec una delle possibili risposte forse anzi sicuramente non l'unica ma una con un ruolo rilevante risiede proprio in questo processo cognitivo definito come rimuginio il rimuginio inizia a essere quel processo mentale che fa sì che una sofferenza emotiva non mantenga un aspetto puramente transitorio che cosa è il rimuginio per rimuginio si intende in senso un po ampio poi vedremo che esistono delle specifiche differenti ma in senso ampio è uno stile di ragionamento analitico perseverante e ripetitivo focalizzato su contenuti mentali negativi in particolare rimuginio studiato da borcovec o worry o rimuginio ansioso in italia è caratterizzato da una tendenza a reagire ad alcuni dubbi sul futuro cercando di immaginare quali scenari negativi potrebbero occorrere in qualche misura rimuginio il tentativo di rispondere a una serie di domande se capitasse qualcosa di brutto che cosa succederebbe lo scopo di chi rimugine di chi si perde in queste riflessioni è cercare di prevedere il negativo e di prevenirlo quindi è uno sforzo comprensibile da questo punto di vista gli esseri umani cercano di immaginarsi scenari ipotetici negativi a fronte di una condizione di incertezza per potervi porre in anticipo rimedio al fine di evitarli oppure al fine di essere preparati avendo già elaborato precedentemente una soluzione fattibile in mente il problema di questo tipo di ragionamento è che potrebbe non concludersi mai facciamo un esempio io qui davanti davanti a questo microfono assieme a voi posso avere una mente sensibile a giudizi negativi sulla mia prestazione questa mente sensibile potrebbe portare alcune intrusioni mentali cosiddetti pensieri automatici negativi possono suonare come pensieri del tipo e se non riuscirai a farti capire non riuscirai a essere chiaro questo è un classico dubbio intrusivo fino a quando siamo a livello dei dubbi intrusivi ci troviamo all'interno di un'esperienza umana abbastanza comune il dubbio un'esperienza che accomuna tutti noi così come le emozioni negative il punto è quando questo dubbio emerge nella mente in che modo vi reagisco il rimuginatore è una persona che di fronte a questo dubbio inizierebbe a riflettere su domande del tipo cosa penseranno di me potrei apparire un idiota potrebbero accorgersene vedranno che sono in ansia lo sentiranno non riuscirò a spiaccicare parola la bocca mi si bloccherà mi inizierò a sudare a balbettare dovevo essere più preparato dovrei registrare più volte questa trasmissione insomma iniziano a girare nella mente alcune riflessioni sulle cose negative che potrebbero capitare in particolare legate al giudizio degli altri questa tipo di reazione che effetto ha sul rimuginio e sul dubbio il primo effetto è quello di impedire e ostacolare il naturale scorrere della mente e il naturale dissiparsi dei dubbi il rimuginio impedisce al dubbio di scorrere via ci sono molte ricerche che mostrano come emozioni negative di varia natura siano di fatto transitorie e anche i dubbi sono transitori che cosa succede ai dubbi sui quali non ci fermiamo a rimuginare tendono a scomparire a scorrere come un impulso neurochimico che arriva giunge nella nostra coscienza e poi si allontana il rimuginio impedisce a questo dubbio di allontanarsi è come se nel flusso nel fiume della nostra coscienza scorressero una serie di oggetti i pensieri automatici negativi alcuni dei quali piacevoli altri innocui altri dannosi affilati e noi al passare del dubbio affilato ci fermassimo a raccoglierlo impedindogli di scorrere oltre e iniziassimo a ragionarci sopra con il risultato di tagliarci sempre di più e sanguinare maggiormente nel nostro libro c'è un esempio di rimuginio assioso che ora vi vado a leggere allo scopo di descrivere con maggior dettaglio quali sono le caratteristiche di questo stile di pensiero questo è un estratto del racconto di una paziente ovviamente vagamente cammuffato che chiameremo lucia e lucia alla sera quando rientra a casa dal lavoro mentre guida in un lungo percorso immersa nel traffico anziché rilassarsi riposare ascoltare un po di musica si perde nei pensieri e nelle preoccupazioni legate al suo lavoro e se la mia collega non ha controllato la lista era compito suo ma poi potrebbero esserci dei problemi deve fare solo due cose ma è tanto sbadata che potrebbe essersene dimenticata dovrei occuparmene io anche di quelle per esserne sicura solo che non posso occuparmi di tutto finisce che mi ammalo se vado avanti così però se si dimentica come facciamo domani potrei chiederglielo o potrei anche mandargli un messaggio adesso quando arrivo a casa ma per come è fatta finisce che mi dice di stare tranquilla solo per farmi tacere e poi si sente controllata da me questo perché non capisce l'importanza della cosa non capisce che lo faccio solo per evitare degli errori dovrei lasciar perdere però se lei se ne frega come al solito e vengono degli errori finisce che sono io la responsabile con tutte le aspettative che hanno i capi l'importanza di questo evento tutto quello che hanno investito le raccomandazioni è sempre così alla fine dovrei decidermi solo a svolgere il mio ruolo e fare fare a loro quello che gli va però insomma in fondo io sono il gestore e quindi metterle delle pressioni è anche parte del mio ruolo solo che poi se quella si sente sotto pressione capace che per ripicca mi mette i bastorni tra le ruote appositamente già le sto antipatica e con la sua faccia tosta finisce che alla fine lei se la cave io sono quella che ci prende sotto se decide di sabotarmi finisce ancora peggio di come immagino però bisogna che faccia qualcosa ecco in questo esempio è possibile osservare il rimuginio all'opera e analizzare nel dettaglio le sue caratteristiche vedete come in prigione nasce da un singolo dubbio il dubbio di lucia era la mia collega potrebbe non aver controllato la lista un dubbio vabbè a questo dubbio però si può rispondere in molti modi uno può decidere di ignorare può anche decidere vabbè le mando un messaggio punto invece lucia non è mai soddisfatta dalle risposte che dà dalle ipotetiche soluzioni che la sua mente elabora è come se lei cercasse di risolvere questo dubbio ora in macchina mentre torna a casa con la sua mente e quando trova un'ipotetica soluzione per esempio potrei mandarle un sms appena arriva a casa ecco che la sua mente produce un altro dubbio per come è fatta lei finisce che mi dice di stare tranquilla solo per farmi tacere ogni rassicurazione esito del rimuginio non è altro che l'anticamera di un successivo dubbio che dai là a un ulteriore processo di rimuginio questo in modo in cui le persone rimangono avvinghiate a dubbi negativi sul futuro anche perché i dubbi negativi sul futuro non possono essere risolti perché non esistono quando come dire una risposta ad ansia era l'esito del vedere il segnale di un ipotetico animale pericoloso al di là del cespuglio nella savana allora avere una risposta di ansia e quindi di attivazione poteva salvare la vita ed era anche sensato imparare che se c'è un cespuglio ci muove si muove è possibile che ci sia un predatore nascosto al suo interno potenzialmente può essere utile per la sopravvivenza e quindi al successivo cespuglio che si muove l'animale ha preso a imparare ansia a preparare una risposta di attacco di fuga però lì è diverso lì è qualcosa che si vede che c'è nel concreto che è davanti agli occhi che si basa sui sensi la coscienza porta con sé un grave fardello il fatto di portare l'essere umano a considerare ciò che emerge nella mente come pensiero intrusivo automatico alla stregua di qualcosa che viene visto con gli occhi però non è così se io vedo il cespuglio muoversi è un dato il pensiero che dentro il cespuglio ci possa essere un predatore senza aver visto alcun segnale della sua presenza è un pensiero totalmente staccato dalla realtà che mi circonda ed essendo totalmente staccato dalla realtà che mi circonda e nel rimuginio principalmente orientato al futuro cioè qualcosa che deve ancora accadere io nel momento presente non sono in grado non ho la possibilità di mettere in atto un'adeguata risposta di attacco o fuga perché non posso fuggire dalla mia mente e quindi la tendenza a lavorarci sopra portandolo continuamente con sé tiene viva questa sensazione di ansia che non viene mai scaricata come verrebbe scaricata dal cerbiatto che a un certo punto vedendo il predatore o temendo la sua presenza decide di scappare di allontanarsi dal cespuglio questo esempio che appena letto descrive anche bene quali sono le caratteristiche principali del rimuginio in questo senso parliamo del rimuginio ansioso e sappiamo che rimuginio ha diverse facce ma le vedremo nel dettaglio in una prossima trasmissione il rimuginio è ripetitivo negativo orientato al futuro è astratto prevalentemente verbale è una forma di ragionamento molto impegnativa e costosa per il sistema cognitivo dell'individuo e quindi ha dei costi ingenti anche se comprensibilmente viene messo in atto come forma di protezione facciamo il punto rimuginare quindi significa rispondere a un dubbio negativo ipotetico sul futuro iniziando a ragionare sopra e a elaborare cose negative che potrebbero capitare in condizioni di incertezza e potenziali risposte volte a prevenirlo o a gestirlo nel caso si dovesse verificare tutto questo prima che la situazione si realizzi concretamente è di fatto una strategia mentale che le persone mettono in atto per governare eliminare risolvere un dubbio sul proprio futuro è comprensibile che le persone vogliono cercare di prevedere prevenire gli scenari negativi ma visto che l'oggetto è qualcosa che capiterà nel futuro nel presente non sia in grado di fare nulla concretamente per eliminare un dubbio se non aspettare e quindi quello che spesso accade è che le persone che consumano energie e risorse nel rimuginio pagano un costo in termini emotivi e questa strategia di gestione di controllo sul futuro può essere ormai tanto abitudinaria o consolidata che la persona potrebbe considerarla una parte di se stessa della propria identità o comunque qualcosa ormai fuori dal proprio controllo non riesco a smettere di rimuginare anche su questo punto parleremo a fondo nelle prossime trasmissioni ma ora scendiamo un attimo il dettaglio per capire quali sono concretamente le conseguenze di questa forma di rimuginio ansioso primo un primo danno è sul benessere il rimuginio ansioso tiene in primo piano dubbi negativi e tenendo in primo piano dubbi negativi tiene acceso il fuoco delle emozioni stressanti impedisce alla nostra mente di regolarsi naturalmente ogni emozione negativa è fatta per avere una sua fase di crescita di plateau e di autoregolazione noi siamo fatti per essere a un certo punto distratti dal mondo che ci circonda e in qualche misura autoregolare i nostri stati interni nessuna emozione negativa dura a lungo se noi non facciamo qualcosa che la tiene viva il rimuginio è una di queste cose che la tengono viva ci tiene concentrati e chiusi su pensieri negativi nel breve termine questo significa sofferenza emotiva una sofferenza che quindi è più lunga più intensa più frequente di quella che normalmente occorrerebbe in quelle situazioni ed è questa la linea discriminante tra un'ansia tra virgolette non patologica per quanto negativa cioè l'ansia che emerge se abbiamo un dubbio se ci troviamo in una condizione di incertezza da un'ansia di nuovo tra virgolette sporca caratterizzata e fomentata da una tendenza a rimuginare su quel dubbio il danno nell'immediato ma nel lungo termine rimanere costantemente in condizioni di stress senza la possibilità di esercitare un'efficace risposta di attacco o fuga produce delle sindrome legate allo stress cronico dannose anche per la salute dell'individuo tensione muscolare insonnia cefalee dolore cronico spossatezza e tutto ciò che noi normalmente descriviamo come sintomi quando ci sentiamo molto stressati per troppo tempo quindi rimuginio è un martello che distrugge il nostro benessere psicologico ma anche il nostro benessere fisico non solo danneggia anche la nostra prestazione una prestazione interpersonale sicuramente perché essendo così stressati siamo anche irritabili più inclini a discutere ma anche una prestazione cognitiva al lavoro perché rimuginio è un'operazione complessa se noi continuiamo a rimuginare su ciò che di negativo può capitare come se io cercassi di descrivere in modo chiaro rimuginio a voi continuando contemporaneamente parallelamente a rimuginare su come la mia prestazione potrebbe essere scadente sicuramente svolgere due compiti cognitivi contemporaneamente danneggia l'efficacia dell'uno e dell'altro quindi che cosa succede che se noi più rimuginiamo più consumiamo risorse mentali e quindi più siamo stanchi mentalmente se siamo stanchi abbiamo prestazioni peggiori in termini di memoria di concentrazione di capacità di problem solving cognitivo ma anche solo mentre rimuginiamo e stiamo svolgendo altri compiti è come se chiedessimo alla nostra mente di fare due cose contemporaneamente quindi le nostre prestazioni diminuiscono ma se le nostre prestazioni diminuiscono che cosa emerge rispetto al futuro ulteriori dubbi negativi non riuscirò più a portare avanti il mio lavoro come un tempo ed ecco un nuovo dubbio ed ecco un nuovo oggetto per il rimuginio e quindi non solo è un danno per le nostre prestazioni ma in quanto danno per le nostre prestazioni diventa anche l'alimentatore di futuri dubbi sulle conseguenze negative del rimuginio e del nostro calo prestazionale che danno origine a nuovo stress si tratta così anche di un rischio importante che caratterizza il cosiddetto disturbo d'ansia generalizzata la tendenza a rimuginare sul rimuginio la tendenza iniziare a rimuginare su il fatto che il rimuginio o stare a pensare troppo alle cose rischia di distruggere la mia vita di distruggere le mie relazioni di danneggiare il mio futuro professionale ecco a questo punto il circuito del disturbo psicologico si è completamente chiuso le persone senza rendersene conto iniziano a cercare di rimuginare di più per risolvere i problemi che lo stesso rimuginio contribuisce a mantenere o a incrementare si è instaurato un disturbo d'ansia fomentato anche dal fatto che a questo punto le persone percepiscono questa tendenza a rimuginare come qualcosa di pericoloso e contemporaneamente di incontrollabile chiuse nei loro pensieri a questo punto qualcuno riesce in qualche modo a gestirla a cercare di eliminare l'immuginio non appena si rende contro di essere troppo danneggiato dal rimuginio ma solitamente le modalità che utilizza a volte sono peggio del rimuginio stesso alcune persone cercano di smettere di rimuginare attraverso l'uso di alcol per esempio di droghe di farmaci oppure evitando le situazioni che potrebbero attivare dubbi io ci sto lontano così non mi verranno dubbi e non sarò portata a rimuginare e non sarò nelle condizioni di iniziare a rimuginare sul fatto che il rimuginio potrebbe distruggermi l'esistenza ma ecco che l'uso di alcol piuttosto che l'evitamento delle situazioni danneggiano esse stesse la vita l'alcol crea tutta una serie di problemi secondari per esempio sono abbastanza noti l'evitamento è come dare il rimuginio partita vinta limitiamo la nostra stessa esistenza e quindi apriamo le porte poi a una futura insoddisfazione per una presente tranquillità insomma non è un nemico simpatico non è un nemico simpatico anche perché è un nemico mascherato come avete potuto vedere perché molte persone ritengono che attraverso la riflessione la previsione il ragionamento anticipatorio si possa riuscire a evitare i pericoli si possa riuscire a essere pronti e preparati al peggio ma così facendo non si rendono conto che quella breve rassicurazione che ottengono nei momenti in cui hanno immaginato uno scenario negativo e hanno immaginato una potetica risposta in realtà è solo l'anticamera di dubbi più catastrofici e più gravi e che quindi questa propensione al rimuginio se non viene volontariamente sospesa diventa qualcosa che continua a procedere ingigantendosi e autoalimentandosi con profondi danni per il benessere e per la prestazione dell'individuo non vorrei aver aperto una serie di scenari catastrofici con questa piccola introduzione ma in come tutte le lunghe storie si parte dall'aspetto più tragico e negativo ma con una profonda speranza che verso la fine di questa storia incontreremo la luce in fondo al tunnel per ora ci fermiamo qui ma voglio lasciare una prima indicazione per chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi che è cominciata a osservare se e quanto vi perdete nella vostra mente piuttosto che guardare ciò che accade intorno a voi notate e prendete magari appunti se vi trovate a rimuginare su qualcosa di negativo che potrebbe capitarvi e ricordate che se vi accorgete di rimuginare allora questo è segno che è il momento di prendere una decisione posso fare qualcosa ora se sì l'attuo se no vale la pena rinviare con la decisione anche il rimuginio ci vediamo alla prossima trasmissione e grazie a tutti voi